Questa è una serata piena di ospiti, il canto è stato il tour 2008, tappa di Agnana Calabra. E mio piacere e onore è chiamare sul palco Pasquale Caridi. Buonasera Pasquale, come va? Bene, grazie, buonasera a tutti. Pasquale Caridi, noto artista di Pianobar Reggino, nonché grande amico del presidente dell'Associazione Calabria 2001 che ha insistito per aversi qui questa sera. E quindi ringraziamo anche Marcello Lampi per averti portato sul palco del canto del tour 2008. Io non ho altro da aggiungere, se non, signori e signori, Pasquale Caridi. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.